9 kg all'angolo rosso Brian Kastner dall'Argentina, all'angolo blu Mark Basile all'Australia, l'arbitro il signor Zola. On a rigate, the third round, sul Big High, la prima ripresa. On a rigate, the third round, sul Big High, la prima ripresa. On a rigate, il signor Zola, l'arbitro il signor Zola. Il signor Zola, il signor Zola, l'arbitro il signor Zola, l'arbitro il signor. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.